Il servizio di ieri del nostro telegiornale I vitalizi o le pensioni che ex consiglieri regionali hanno percepito e stanno percependo. Una rabbia anche a margine della proposta dell'Ape che non è l'insetto col pungiglione che proviene per garantire un preprensionamento. Una ipotesi e una riforma che agevolerebbe coloro che vogliono andare a casa a riposare qualche anno prima ma che certamente farà un dono, un gran dono, tanto per cambiare alle banche. Però se ogni lavoratore nel corso della sua vita occupazionale paga dei contributi, alla fine della sua e della propria carriera porta a casa meno di quanto percepito mensilmente lavorando duro e rischiando quotidianamente il posto di lavoro. Perché ci siamo indignati nel leggere che persone con 15 anni di attività politica in seno al Consiglio regionale possano portare, anzi portino, nelle proprie tasche più di 11.000 euro al mese. Parliamo certamente di cifre lord e altri con soli 5 anche più di 3.000 euro al mese. Sì perché se tutti questi avessero ben rappresentato gli interessi del territorio noi non vivremmo così, a prescindere dal fatto che credo sia ingiusto che con tanti pochi anni, dai 5 ai 15, si possa avere un vitalizio ed un vitalizio così esagerato. Cosa diversa è l'indennità di mandato qualora il mandato fosse onorato per gli interessi dei cittadini. È assurdo tutto questo in un momento di così grave crisi. Ma voglio andare oltre nella valutazione. Va bene, hanno dato la propria vita per la politica, ma forse sarebbe più opportuno che l'ipotesi di vitalizio non abbia quelle cifre e abbia magari cifre di un normale lavoratore che percepisce un decimo di quelle somme ma lavorando quasi 40 anni. A domani. A domani.